video ricetta della ciara micola ingredienti per la base 300 grammi di farina 200 grammi di zucchero 100 grammi di burro 100 millilitri di al kermes una bustina di lievito per dolci tre uova e un limone per la meringa due albumi 150 grammi di zucchero a velo e delle codette colorate per la base della torta mettere in una ciotola capiente le uova intera assieme allo zucchero e alla scorza grattugiata del limone con le fruste elettriche montare questi ingredienti fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso aggiungere a questo il burro fuso e continuare a montare incorporare ora la crema di uova all'al kermes mescolando con una spatola per non smontare il composto infine mescolare la farina con il lievito e farli scendere poco per volta da un setaccio mescolando lentamente imburrare e infarinare molto bene uno stampa a ciambella del diametro di 24 cm in esso versare il composto preparato e livellarlo con una spatola cuocere la torta in forno preriscaldato a 170 gradi per circa 40 minuti a fine cottura sfornare la torta e farla raffreddare poi toglierla dallo stampo capovolgendola su un piatto e rigirandola successivamente per la meringa di decorazione della ceramicola montare gli albumi a neve fermissima assieme allo zucchero a velo distribuire quindi usando un cucchiaio o la spatola la meringa all'italiana sulla superficie della torta e completare con i confettini colorati passare questa torta pasquale in forno caldo a 100 gradi per circa 30 minuti in modo da far assoddare la meringa